Il picnogenolo è una potente miscela antiossidante costituita principalmente da procianidine estratte dalla corteccia del pinus marittima. Le procianidine sono molecole appartenenti alla classe dei flavonoidi e strutturalmente sono costituite da condensazioni di catechina ed epicatechina di lunghezza variabile. Queste sostanze costituiscono circa il 65-75% del picnogenolo. Oltre a loro comunque sono presenti in misura minore anche flavonoidi monomerici ed acidi fenolici. Le principali proprietà del picnogenolo riguardano l'attività antiossidante e la capacità di modulare i processi infiammatori. Dal punto di vista farmacologico il picnogenolo è capace di inibire il fattore nucleare Kb e quindi ridurre la produzione di molte citochine proinfiammatorie come per esempio il tumor necrosis factor alfa e l'interleuchina 1 beta. Inoltre è capace di migliorare la funzione endoteliale limitando l'aggregazione piastrinica e modulando la produzione di ossido nitrico. Invece per quanto riguarda l'attività antiossidante il picnogenolo è capace di chelare i metalli, proteggere e rigenerare la vitamina C, la vitamina E e il glutatione e infine può inibire direttamente la produzione di radicali liberi. In questo video vi parlerò delle ricerche che sono state condotte sul picnogenolo per quanto riguarda l'asma, la funzione vascolare, la disfunzione erettile, il disturbo da deficit di attenzione e iperattività, l'inibizione dell'aggregazione piastrinica, l'artrosi al ginocchio, il diabete, la pressione sanguigna e la neuroprotezione. L'asma è una malattia infiammatoria cronica che colpisce i bronchi. In Europa si stima che oltre 30 milioni di persone siano affette da asma bronchiale. In Italia circa 9 milioni di persone ogni anno sono colpite da allergie respiratorie e si stima che circa il 15% della popolazione sia affetto da allergie ai pollini. Questo è un fenomeno purtroppo in continua crescita soprattutto tra la popolazione più giovane e le donne. Uno studio clinico condotto su 26 pazienti asmatici ha dimostrato che l'assunzione giornaliera di 200 mg di picnogenolo per 4 settimane può potenzialmente ridurre i livelli plasmatici delle eucotrieni migliorando sensibilmente i sintomi asmatici. Un altro studio clinico condotto su 76 individui asmatici ha dimostrato che l'assunzione giornaliera di 100 mg di picnogenolo, 50 mg la mattina e 50 la sera per 6 mesi può potenzialmente ridurre i sintomi dell'asma e inoltre ha permesso di diminuire l'utilizzo dei farmaci inalatori a base di corticosteroidi. Un dato estremamente importante è la capacità del picnogenolo di ridurre le concentrazioni plasmatiche di IgE totali, cosa che non accade con la terapia a base di corticosteroidi per uso inalatorio. Uno studio clinico randomizzato controllato con placebo in doppio cieco e condotto su 60 pazienti di età compresa tra i 6 e i 18 anni ha dimostrato che l'assunzione di picnogenolo per tre mesi può potenzialmente ridurre i sintomi dell'asma in modo statisticamente significativo e inoltre ha permesso di ridurre le concentrazioni urinarie dei leucotrieni. Secondo questi risultati i ricercatori sostengono che il picnogenolo potrebbe rivelarsi una strategia coadiuvante molto interessante in caso di asma da lieve a moderata. Uno studio clinico estremamente interessante condotto su modello murino ha indagato sulle proprietà farmacologiche sulla biodisponibilità del picnogenolo per quanto riguarda il trattamento delle infiammazioni delle vie aeree causate dall'asma. In questo studio sia la somministrazione intragastrica che la somministrazione endovenosa hanno permesso di ridurre le lesioni proinfiammatorie provocate dall'ovoalbumina. L'ovoalbumina è una proteina allergizzante che viene utilizzata negli studi sperimentali. Il picnogenolo ha inibito la liberazione di molte citochine proinfiammatorie nei fluidi alveolari e ha inibito il rilascio di acetilcolina che è un neurotrasmettitore con azione broncocostruttiva. Dal punto di vista della biodisponibilità sembra che il picnogenolo sia efficacemente assorbito e che il suo metabolismo di primo passaggio migliori con le somministrazioni successive. Sempre nell'ambito della ricerca scientifica un altro studio clinico condotto su modello murino ha dimostrato che il picnogenolo oltre a inibire la sintesi di molte citochine proinfiammatorie è capace di ridurre i livelli circolanti di IgE totali e di inibire l'attivazione del fattore nucleare Kb. Tuttavia nonostante questi risultati interessanti ad oggi il numero di pazienti arruolati è davvero molto limitato e quindi non si può stabilire con certezza quanto il picnogenolo sia efficace nel trattamento dell'asma. Infatti anche alcune revisioni sistemiche sottolineano giustamente la mancanza di studi clinici randomizzati in doppio cieco e su un numero molto più elevato di pazienti. Il picnogenolo può indurre vasodilatazione aumentando la sintesi dell'ossido nitrico e proteggendo l'ossido nitrico dalla degradazione per azione antiossidante. In uno studio clinico condotto su 20 pazienti affetti da disturbi vascolari retinici è stato dimostrato che l'assunzione giornaliera di 150 mg di picnogenolo per due mesi può migliorare la vascolarizzazione retinica favorendo il potenziale recupero dell'acuità visiva e svolgendo un ruolo anti-edematoso. In un altro studio clinico in doppio cieco e condotto su 40 pazienti affetti da insufficienza venosa cronica è stato dimostrato che la somministrazione giornaliera di picnogenolo per due mesi può ridurre la pesantezza le gambe e migliorare l'edema sottocutaneo. Inoltre è stato scoperto che il picnogenolo è capace di ridurre la pressione venosa svolgendo un ruolo antinfiammatorio. Sembra inoltre che il picnogenolo risulti essere più efficace degli estratti di ipocastano. Infatti in uno studio clinico comparativo l'assunzione giornaliera di 360 mg di picnogenolo ha dato dei risultati migliori in termini di riduzione della circonferenza degli arti inferiori e di riduzione dei sintomi soggettivi della malattia rispetto al trattamento di 600 mg al giorno di estratto di semi di ipocastano. Un altro interessante lavoro scientifico da menzionare è quello condotto su 5 studi clinici per un totale di 1.289 pazienti coinvolti e affetti da retinopatia diabetica. In tutti questi studi è stato dimostrato che l'assunzione di picnogenolo può potenzialmente ridurre l'evoluzione della malattia migliorando l'acuità visiva. In modo particolare sembra che il picnogenolo migliori la resistenza capillare dando dei risultati paragonabili a quelli ottenuti con una terapia base di dobesilato di calcio. Dall'analisi di questi lavori è emerso inoltre che il picnogenolo risulta ben tollerato e in genere non dà effetti collaterali gravi se non lievi e transitori disturbi intestinali. L'ossido nitrico è il principale mediatore chimico per rilassare la muscolatura pelvica e indurre l'erezione. Essendo il picnogenolo un composto capace di migliorare la produzione di ossido nitrico alcuni ricercatori hanno cercato di indagare le sue proprietà sulla disfunzione erettile. Uno studio clinico condotto su 40 pazienti di età compresa tra i 25 e i 45 anni ha dimostrato che la somministrazione orale di L-arginina e picnogenolo è capace di migliorare i sintomi della disfunzione erettile dopo tre mesi di trattamento senza provocare effetti collaterali. In un altro studio clinico in doppio cieco condotto su 21 pazienti affetti da disfunzione erettile è stato dimostrato che la somministrazione giornaliera di 120 mg di picnogenolo per tre mesi può potenzialmente migliorare l'attività sessuale in modo statisticamente significativo migliorando inoltre la barriera antiossidante plasmatica e riducendo il colesterolo totale. Un altro studio clinico in doppio cieco a gruppi paralleli e condotto su pazienti affetti da disfunzione erettile ha dimostrato che la somministrazione orale giornaliera di 60 mg di picnogenolo associato a 690 mg di L-arginina e 552 mg di acido aspartico per otto settimane può potenzialmente migliorare il quadro clinico della disfunzione erettile. Oltre a questo sembra che il picnogenolo associato all'L-arginina possa migliorare in modo statisticamente significativo la vitalità degli spermatozoi nel liquido seminale dopo 2 e 4 mesi di utilizzo. Questi risultati preliminari sono davvero molto interessanti. La speranza è che in futuro vengano realizzati ulteriori studi clinici su un numero molto più elevato di pazienti per convalidare quanto il picnogenolo possa essere efficace per il trattamento della disfunzione erettile. Del disturbo da deficit di attenzione e da iperattività ne ho già parlato in un video che vi lascio nelle schede. In uno studio clinico randomizzato in doppio cieco controllato con placebo e condotto su 61 bambini affetti da disturbo da deficit di attenzione e da iperattività è stato scoperto che la somministrazione giornaliera di un milligrammo di picnogenolo per ogni chilogrammo di peso corporeo per 4 settimane può migliorare i sintomi motori e favorire l'apprendimento e la concentrazione in modo statisticamente significativo. Secondo questi risultati sembra che il picnogenolo possa rivelarsi una nuova strategia vincente per il trattamento dei disturbi da deficit di attenzione e da iperattività. L'efficacia del picnogenolo è in fase di valutazione in uno studio clinico di fase 3 randomizzato in doppio cieco e condotto su 144 pazienti. Occorrerà quindi attendere i risultati di questo studio clinico per comprendere se e quanto il picnogenolo può essere di aiuto per la gestione dei disturbi da deficit di attenzione e iperattività. Il picnogenolo sembra essere efficace per ridurre l'aggregazione piastrinica causata dal fumo di sigaretta. Infatti diversi studi clinici, sebbene su un numero comunque molto limitato di pazienti, hanno dimostrato che la somministrazione di dose variabili di picnogenolo possano in qualche misura ridurre l'aggregazione piastrinica indotta dal fumo senza modificare il tempo di sanguinamento. Infine è interessante notare che in uno studio clinico su modello murino l'aggiunta di picnogenolo ai filtri delle sigarette permette di ridurre la produzione di radicali liberi e la mutagenicità del fumo. In uno studio clinico in doppio cieco controllato con placebo condotto su 100 pazienti affetti da artrosi al ginocchio è stato dimostrato che l'assunzione giornaliera di 150 mg di picnogenolo è capace dopo tre mesi di migliorare i sintomi della malattia riducendo il dolore. Oltre a questo studio in letteratura sono presenti altri lavori scientifici che mostrano risultati clinicamente sovrapponibili indicando che il picnogenolo potrebbe essere efficace nel trattamento dell'artrosi al ginocchio riducendo inoltre il consumo di farmaci antinfiammatori. In effetti il picnogenolo può svolgere una potenziale azione antinfiammatoria poiché inibisce l'espressione della cicloossigenasi 2 e della 5 lipossigenasi riducendo quindi la produzione di molte citochine proinfiammatorie. Quando viene assunto oralmente in genere il picnogenolo è efficacemente assorbito o meglio gran parte delle sue molecole sono efficacemente assorbite nell'arco di 30 minuti. Alcuni studi clinici hanno dimostrato che oltre al picnogenolo anche i suoi metaboliti di primo passaggio risultano attivi come agenti antinfiammatori e per questo motivo il picnogenolo può svolgere un'azione prolungata sull'infiammazione. Se siete interessati ad avere maggiori informazioni sull'artrosi al ginocchio vi lascio nelle schede i link ad alcuni video che ho fatto in precedenza. In uno studio clinico multicentrico randomizzato in doppio cieco e controllato con placebo condotto su 77 pazienti affetti da diabete di tipo 2 è stato dimostrato che l'assunzione di 100 mg al giorno di picnogenolo per 12 settimane in aggiunta alla terapia standard è capace di ridurre ulteriormente i livelli di glucosio di moglubina glicata senza provocare effetti collaterali. Oltre a questo uno studio clinico randomizzato in doppio cieco controllato con placebo a gruppi paralleli e condotto su 48 pazienti diabetici e lievemente ipertesi ha dimostrato che l'assunzione giornaliera di 125 mg di picnogenolo per 12 settimane può potenzialmente ridurre la glicemia e il colesterolo LDL. Inoltre questa strategia sembra ridurre ulteriormente la pressione arteriosa con un minore utilizzo di farmaci ace inibitori. Questi studi sono naturalmente preliminari ma i risultati che si sono ottenuti sono davvero molto incoraggianti in quanto sembra che il picnogenolo sia potenzialmente utile per il trattamento del diabete e per ridurre il rischio di malattie cardiocircolatorie. Una revisione sistemica e meta-analisi condotta su 12 studi clinici per un totale di 922 pazienti coinvolti suggerisce che l'assunzione giornaliera di pinogenolo possa ridurre potenzialmente la pressione arteriosa sistolica e diastolica dopo 12 settimane di utilizzo. Per concludere questa trattazione vorrei ricordare che il pinogenolo è risultato efficace su modello murino anche per inibire la deposizione di tessuto beta-amiloide e questi risultati suggeriscono che il pinogenolo possa essere di aiuto in qualche misura per il trattamento delle malattie neurodegenerative. tuttavia ad oggi si sa ancora molto poco e sono necessari studi clinici sull'essere umano per stabilire se e quanto il pinogenolo possa essere di aiuto come agente neuroprotettivo. Se siete interessati ad avere maggiori informazioni sul pinogenolo per quanto riguarda la pelle vi invito ad iscrivervi al nuovo canale youtube che ho attivato Pelle Perfetta. Lì pubblicherò video solo attenenti alla pelle e agli annessi cutanei e vi parlerò di tutte le strategie attualmente in ricerca per quanto riguarda il mondo della cosmesi e più in generale delle scienze dermatologiche. Grazie. 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 Grazie.